Buongiorno a tutti, buonasera a tutti, buon morning, afternoon, good evening e benvenuti a nuovo live con Nintendo Game Boy Advance S&P con Kirby Pinball del 1993 Copyright Eccolo qua E' un po' messo male, perché qualcuno l'ha fatto, ci ha giocato, un pomodoccio Ok Chi siamo? Un po' a destra, ecco qua, originale E se si vede bianco e nero 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 Eccolo qui Eccolo qui Kirbi-kirbi 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 Giochiamo con un altro gioco Allora, cambiamo proprio la categoria Giochiamo con Nago Museum DS Con tutti i giochi Originale Sì Gli facciamo Allora, guarda quanto è grosso È grossetto Ok Mettiamo la schedina Questo originale Mettiamo dentro la schedina Ok A mano mia Un momento Sto bloccando l'immagine Ok Ok La pennetta Allora, ok Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.